Pronto? Andrea Serrano, sono Oscar Martello. Ho letto il tuo libro, voglio conoscerti. La figura del produttore non è una figura che al cinema si vede così tanto, proprio a livello di personaggi, o se si vede a livello di personaggi è sempre secondaria. Io credo che Oscar Martello sia la vera star di Dolce Roma e credo sia un personaggio affascinante, perché proprio la figura del produttore è affascinante, quindi finalmente, no? Innanzitutto voglio dirvi che Oscar Martello tornerà. È una minaccia più che una... Tornerà, è la sua incudine film, e lui batterà molto forte sull'incudine col suo martello, perché non può morire così un personaggio, non può sparire un personaggio così, non può finire, è impossibile. Anche perché non c'è mai stato, fino adesso, un personaggio così. No, ma è una roba che non può, cioè per me è come Batman, il mio martello. Io Oscar Martello è lì, è in stand by, ma io credo che Oscar Martello sia il riassunto della meraviglia del nostro mondo, dello spettacolo. e io penso di aver fatto un buon lavoro perché ho messo la tenerezza che hanno in realtà tutti questi personaggi del cinema, perché il cinema è fatto di guasconeria, di sogni, di menzogne, e in qualche modo tu ti devi... devi voler bene un personaggio così. E io avrei voluto... volevo farlo fare altri attori, perché io non impongo mai me stesso nei miei film e sono felice di aver avuto questa opportunità. Spero che il pubblico si diverta con questo film, come si divertiva quando mi vedeva fare il grande bluff, quando mi divertiva a vedere cose più provocatorie che ho fatto nella mia vita in teatro, Cirano o altre cose. Ma c'è una battuta nel film, te lo dicono che tanto il David non l'hai vinto e quindi te lo compri, ma secondo me con questo ruolo, lo so che guardiamo molto lontano, ma c'è odore di David 2020? Ma non mi hanno mai invitato. Io non vengo mai invitato. Una volta mi hanno messo vicino a un cesso e sinceramente l'odore era forte e sono andato via. Ma non mi hanno mai invitato. Guardi, l'unica volta mi sono auto-invitato. Le racconto un episodio molto divertente. Io ero a Los Angeles per lavoro e avevo malinconia dell'Italia. Allora ho chiamato la segretaria di Davide Donatello, che era già allora un'associazione delinquere, e ho detto, ma scusate, ma perché non mi invitate? Io vorrei dare un premio a qualcuno. La chiamo associazione delinquere perché furono tutti inquisiti in quell'anno lì, perché avevano truffato tutti, è la verità. E allora mi dissero, no, guarda, non sei gradito. Ma perché mi dici una cosa così? Cazzo, sono barbaresco, ho fatto centinaia di roba, di film e tutto, perché non mi vuoi? No, guarda, non abbiamo piacere. Grazie a pensare. Poi dopo due minuti mi richiama sempre un rondi e mi dice, ma scusa, tu hai per caso il telefono di Polanski? Perché avevo lavorato con Polanski, prodotto i film di lui. Dico, sì, me lo dai? Dico, no. E dice, perché lo vuoi? No, perché mi serviva, perché lo dobbiamo invitare. E fu molto divertente la frase, perché se viene vince il premio. Già questa roba che se uno viene vince dalla forza di cos'erano i Davide allora. E io gli dico, guarda, no, ma lo vedeci, grazie. Dopodiché chiamo Roman, gli racconto la storia, e lui mi dice, beh, mi sembra un premio molto serio, che mi dicono che me lo danno se vengo, se non vengo non vinco. Mi danno un premio, poi deciderò se vengo o non vengo. Insomma, sono Roman Polanski. E poi gli racconto l'episodio, dico, mi spiace, non ti vedrò, perché non posso venire. E fa, don't worry, we'll talk about it, ne parleremo. Mentre c'è il telefono, dopo cinque minuti, mezz'ora, mi chiama Rondi, e fa, Luca, ci deve stare un malinteso. Noi citeremo moltissimo che tu dessi il premio a Polanski. E ho collegato tutto, ho detto, ma come? Sì, perché sai, prima non avevamo capito che eri tu al telefono, delle balle terribili. Allora dice, senti, potresti venire a dare il premio a Polanski? Dico, un attimo, che sono sull'altra linea. Metto giù, chiamo Roman, dico, Roman, ma scusa, ma gli hai chiesto qualcosa? Fa, certo, siamo amici, mi hai prodotto i film, mi hai fatto le cose. Gli ho detto che, se io vengo, vieni anche tu, ma vieni anche tu, in prima classe, come me, all'Hastler. Allora, io sono costato, allora, un viaggio in prima classe, round trip, da Los Angeles con la British, che credo sia costato 32 mila euro. Io sarei voluto venire gratis a mie spese. Questa dà l'imbecillità di cosa sono stati. Spero che adesso migliora, c'è più a tre dei tassi, sembra che vogliono cambiare tutto, per cui ci saranno, ma forse è bello non ricevere mai premi, perché ti stimola. Io penso, chi è l'attore che ha avuto tardissimo un bel premio, che è un attore, un genio? Di Caprio. Di Caprio gli ha dato il film, il premio per il film più brutto, se ci pensi, perché non parla, la fa solo per due ore, per cui è quasi un insulto. Di Caprio è un genio, ha fatto i più bei film della storia, ma è troppo bello lui, è troppo intelligente, piace le ragazzine, per cui tutto il mondo dei frustrati lo odia. Io ho troppi peccati originali, sono alto di 87, ho avuto tante belle donne, sono guascone. Però è bella questa storia, perché in qualche modo si ricollega anche al film, quindi non ci sono solo figure negative, c'è una sorta di collaborazione all'interno del cinema, ci può ancora essere, di solito in Italia si dice che c'è sempre meno, si fa meno cameratismo rispetto a magari un cinema americano dove si sostengono di più. Guardi, il cinema americano stanno insieme per paura, perché hanno paura, per cui hanno fatto l'associazione e questo li rende forti, in realtà hanno il terrore, perché l'America è un paese dove una mattina uno si sveglia e trova gli scatoloni sulla scrivania, i famosi box, e tu sei licenziato, ma non te lo dico neanche, è un paese spietato, per cui le associazioni ti fanno caldo. Noi che invece siamo dei cazzoni terribili, perché siamo un paese viziato, tutto sommato, perché abbiamo tutto, poi comunque non muori mai di fame in questo paese, in qualche maniera ti arrangere. E noi abbiamo perso l'abitudine invece di essere coesi, di volerci bene, di rispettare. Io lo vedo alle mie prime, alle mie prime non vengono quelle dello spettacolo, vengono tanti amici, vengono tante persone, ma non viene il Parterre d'Ovois che ha Sorrentino o Virzi, perché loro sono una casta, a parte, loro sono quelli che possono fare il cinema, ma da sempre e per sempre probabilmente. io no, ma quel però mi stimola, la differenza è che io ho fatto l'Eliseo, ho fatto centinaia di film e sono un uomo libero e loro, quando mi guardano negli occhi, si imbarazzano. non era così che me l'ho immaginato.